Con la sigla, capito? Signore e signori. Eccolo. No, ma tu non è venuta da te. No, quello che è stato rimorre importante Come la piccola speranza che ci serve Perdonami per questi giorni Ho capito? Tipo su diretto degli anni 80? Allora, prima cosa, sono molto contento. E fai molto bene. No, non lo so perché. Benvenuto. No, perché sei qua. Sono contento. Perché, come dire, Laura tu sei tante cose Ma sei anche un simbolo di vitalità Questa è una cosa bellissima Che credo che al di là delle canzoni Di tutte le cose importanti che hai fatto Ma è quello che da anni comunichi E sei sempre... E questa cosa la mantieni Hai anche acquisito uno sguardo Un po' più consapevole Cioè si vede che Ora la sofferenza ha fatto parte della tua vita Sì Però si vede anche che riesci a sublimarla Attraverso la tua energia È più o meno così o no? Sì, assolutamente è così Sono tutte e due le cose in realtà Sono ancora tutte e due le cose Un po' malinconica Un po' desiderosa di... Guarda, in questi giorni Mi sto rendendo conto Pensando al mio futuro soprattutto Che non voglio avere una meta Perché se ce l'ho di carattere Io provo a raggiungerla E se ho degli ostacoli Mi danno fastidio Ma non mi importa Io voglio andare alla meta Quindi se ci arrivo poi Ho finito Finire le cose mi dà fastidio Certo Quindi di carattere sono proprio così Che ho voglia proprio di essere vitale Andarmi a prendere le cose Ma ho anche paura Sono ancora un po' così Sono più consapevole, vero? Sì, sì, sì Ma d'altronde è che gli anni Certo Passano e lo sai Senti, ma è vero Si mette, come dire, più a lunga distanza Però alcune ce le hai Ce le hai immediate C'è un disco che sta uscendo In uscita c'è dei concetti all'orizzonte Alcuni dei quali farebbero paura a chiunque Perché il Circo Massimo è una roba accidente Allora, il Circo Massimo Ecco, quello l'ho Appena mi è stato proposto La risposta è stata come sempre Quando si parla di musica Molto istintiva Semigasa subito Sì, lo voglio fare subito Ho disegnato il palco in tre secondi Ovviamente ho rigabbiato oltre mille volte Però dopo una settimana o due Che mi è stato chiesto di fare il Circo Massimo Ho cominciato a avere ansia Perché è bellissimo leggere Sentirsi dire Sei la prima donna a fare questo Sei la prima donna Ed è In qualche modo Non è solo per me Ma capisco che è Una responsabilità importante A nome delle femmine Però Se io stavolta Non lo riempio Poi alla fine la notizia Invece sta andando bene Sta andando bene Però lo so Adesso Quando l'abbiamo lanciato Certo Ho detto Porca miseria Perché comunque Non è una meta facile Anche perché Io quando ero più piccola Questa cosa non la sapevo Ogni location Ha il suo tipo di pubblico Perché Alcune location Sono più per concerti rock E il tipo di gente Che continua ad andarci È per Viene attratto un pubblico Mese che un altro Anche se è nella stessa città E quindi Insomma Quando poi Sono andata a vedere Su internet Le cose che sono successe lì Io Tra l'altro Mi sembra che ci fossi anche tu Io ci sono già stata Al Circo Massimo una volta Ma non per un mio concerto Per il Live Aid E lì abbiamo fatto una cosa Certo Veramente pazzesca Molto importante Però anche quello È vissuto più come un concerto rock Anche se c'erano tantissimi artisti pop lì E mi ricordo La stità di gente Quella cosa lì L'ho vissuta Per una serie di coincidenze Anche molto da vicino Perché l'ho presente Quando Geldof chiese a Baglioni Di occuparsi Di tutto Di tutto Disse Ah boh no Sì alla fine Disse sì davanti a me E poi partì tutta quella Quella operazione Sì 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 Questi sono momenti Per la nostra musica Importantissimi Fallo te Tutta un'altra cosa Però scusa Tu hai detto Hai sottolineato Donna Donna cantante Ora Che succede Che tu sei questo Anche qui Sei la vitalità Tutto quello che sei Lo sei da sempre Sei una donna che canta E non l'hai mai ovviamente Nascosta in nessuna maniera Cioè lo esprimi Nel tuo modo di essere Nelle tue canzoni Ora però vai a Vai a La tua storia Va a sovrapporsi Insomma a coincidere Con un momento Se vuoi importantissimo Per le donne nel mondo Perché c'è Tu sei Se vuoi una pioniera Perché il concetto Che hai fatto a Santino Insomma Però adesso La tua storia Va a coincidere Un momento invece Planetario In cui Si comincia a parlare Le donne in modo diverso Lo senti tu girando Essendo Quello che sei Lo sento tutti i giorni Perché Specialmente adesso Che ho già cominciato A fare un po' Il giro promozionale Per lanciare Questo nuovo disco E ho cominciato a fare Delle interviste Con dei giornalisti Seri e importanti come te E spesso la domanda Va su questo argomento Che è interessante Perché Pensa che io Vivo Questa Io la vivo Come una crescita In realtà Cioè Noto una grande differenza Dagli anni 90 Ad oggi In tutti i settori Quindi Quando vado In una Redazione di un giornale O dentro una televisione Dentro una radio Ma anche in altri settori Diversi dal mondo Della musica Per esempio Vedo molte più donne Protagoniste È vero che Quest'anno è stato un anno Il 2017 Ma adesso Continuo ancora Molto Focalizzato su Il potere maschile Sulla donna E quindi L'abuso E tutta questa cosa Io Personalmente Non ho mai vissuto Niente del genere Quindi È anche difficile Dare un'opinione Se non hai vissuto Un trauma del genere Però è importante Che se ne parli È molto importante Che se ne parli Ed è importante Che ci sia anche un'unione Perché spesso Le donne Quando sono Aiutate da altre donne Sono ancora più coraggiose Però Dall'altra parte Ti voglio dire Che non vorrei Che diventasse Uno slogan Troppo forte E ci mettesse In una luce Sbagliata Perché Tu hai cercato molto L'unità Per esempio Con le tue colleghe C'è stata te Che forse hai mosso Vorrei darti verso merito Ma che storicamente C'è regolo Di aver creato Un po' di complicità Tra le cantanti Donne in Italia Guarda Io Quando ho fatto Amiche per l'Abruzzo L'ho fatto per tre ragioni Il primo ovviamente Era per l'Abruzzo Ed era perché In quel momento Era in tour E l'80% Dei tecnici Che lavoravano con me Erano abruzzesi E il giorno Che c'è stato il terremoto Molti di loro Non trovavano i familiari Quindi quel giorno Ho cominciato a chiamare Fiorella per prima Perché sapevo Che Fiorella capiva E sentiva E poi piano piano Gianna Giorgia Elisa Tutte quante Sì ma non so se sbaglio Mi sembra che però Da quella cosa lì Si è rimasta una certa Maggiore complicità Tra le cantanti Sì 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 Assolutamente Perché poi in altre occasioni Si sono riunite Perché poi è bello Anche artisticamente Una delle ragioni Era proprio perché Io non vedevo l'ora Di cantare con alcune di loro E certo Sinceramente Non è perché Con Giorgia C'è bella Ma cavolo Abbiamo fatto delle cose Anche da ascoltare Perché chi era lì Vedere Non so Marina Ray Che suonava con Paola Turci E suonava Nada E Carmen Consoli Guarda è un quartetto di donne Veramente pesante Cioè Senti ma ti diverti ancora? Molto Quanto ti diverti? Eh Guarda Ecco cioè No scelta la faccio meglio La domanda Soffro anche molto Il fatto Sì perché il problema Credo no Che adesso Essendo un artista importante Per l'Italia Per il mondo È ovvio Immagino no Che comunque Un disco Una roba Che ti possa creare Anche un sacco Di pressioni Problemi Ecco Ci si riesce ancora A divertire Avendo questo tipo Di aspettative La parte Nella quale mi diverto Di più In maniera proprio Più sincera Totale È Live È lì Quando entro Forse Quando vedete Di me La parte più Forte E coraggiosa È quando sono lì Quando è che godi Veramente? Qual è una garzone Che ti fa proprio godere? Quelle più difficili Tipo? Ce ne sono alcune Che a volte Le cambio anche Tipo in assenza di te È una canzone Molto difficile Invece no Perché deve essere Perché godi di più lì? Perché Quando sono facili Ah perché sono una sfida Sì sono una sfida Mi piace moltissimo Ancora Che siano difficili Certo Perché quando è semplice Scusa Perché Puoi spiegare Perché una canzone È difficile o no? Per chi ci guarda Che magari Non ha delle cognizioni musicali Dipende un po' dalle corde vocali Dal tuo modo in cui Perché ci sono intervalli più complicati La nota è là Perché è difficile La mia difficoltà Le cose che per me sono difficili È passare dal piano al forte Sì E anche Da un'estensione Da una nota grave Alla più alta Sì Quando ero più piccola La cosa difficile Erano note gravi Perché non le avevo E ho dovuto aspettare Proprio degli anni fisici Sono arrivate? Sì Ma ho dovuto aspettare 5-6 anni dal primo disco Come dice Nicoletta Sanbelli Patti dice Adesso ho 8 ottave Dice Lei è una grande Che adesso la voce Si è allargata Ma è vero Che con il passare degli anni Conosci Io ho conosciuto più la mia voce Stando sul palco Che purtroppo non ho mai studiato canto E quindi essendo Proprio autodidatta da piano bar Sai che ho cominciato a 8 anni La prima volta Quindi ho fatto 10 anni di piano bar E lì Sai piano bar non è che hai molte vie d'uscita Se viene uno Si alza e ti chiede Non lo so Patti Smith E quello dopo vuole Raul Casadei Te devi passarci subito E ti succedeva Sì mi succedeva Ed è stata una grande scuola Poi il fatto di non aver studiato canto Quando poi ho vinto Sanremo Mi ha portato dei problemi Perché cantare Diciamo solo il venerdì, sabato e domenica Per due ore Non era come andare a fare un tour Muoversi continuamente E avere tutti i giorni degli spettacoli E non sapevo usare il diaframma E quindi mi è andata via la voce Effettivamente è importante Conoscere anche la parte tecnica Però sono sempre stata molto più Io ascoltavo i dischi e cercavo di imitarli E dopo mio babbo mi sgridava e mi diceva Sei troppo uguale, devi trovare te Mio babbo che è qui? Mio babbo è sempre È nascosto, è nascosto Ma c'è, c'è C'è, c'è Però insomma Io quando ero piccola avevo il mito di Anoxa E anche quando è uscita di Mietta Mi piaceva un sacco il suo timbro Perché mi ricordava in versione italiana Sara Vogan Perché E che era bassa? Sì, lei quando faceva le basse Daniela aveva delle basse veramente molto forti E dove la sentì Sara Vogan? Ma mio babbo aveva tutti i dischi di tutti Quindi noi avevamo un sacco di vinili a casa E quando non andavo Non potevo andare a cantare Dal lunedì al giovedì Perché dovevo andare a scuola Mia mamma non mi lasciava Quindi stavo in mansarda E mettevo su dei grandi dischi Passavo da Pantacalza, Lucida, Verde, Smeraldo e Body Bianco Una cosa inguardabile Facendo la corista degli UAM Perché Facevo tutti i balletti E poi magari mi mettevo su Appunto Sara Vogan O dei nomi più importanti Che mi ricordo che quando lo dicevo alle mie compagni Dicevo ma cosa ascolti Mi prendevo proprio in giro Invece sono stati anche questi grossi cambiamenti Di stile che ho ascoltato Che mi hanno permesso Uno, di trovare quello dove io mi sentivo più comoda Io non avevo Non solo previsto Ma nessuno questo lo fa Di essere una cantante conosciuta Ma non l'avevo molto sognato Né che sognato? Sognato di essere famosa? No, mai Io proprio speravo di far piano bar Sapevo che era molto difficile Cioè già speravi di poter continuare a fare Musica Che potessi essere il tuo lavoro Insomma Sì Anche se come primo lavoro Io avrei voluto studiare architettura E poi fare la grafica Perché adesso possiamo dire Che siamo passati a vedere L'ufficio grafico di Repubblica Perché è lì quando sono passati davanti all'ufficio grafico Perché un pochettino Quando ti succedono delle cose Come a me è successo con Sanremo nella vita Ti chiedi Ma cosa sarebbe Come sarei oggi Se non facessi questo? Potessi essere lavorato all'ufficio grafico di Repubblica Ma magari sarebbe Guarda Ma magari di Repubblica Cioè quello è una cosa Già sarebbe I miei compagni Due sono riusciti a fare Fanno i grafici Abbiamo studiato Io ho fatto la scuola d'arte ceramica Di restauro a Faenza Ma abbiamo studiato In un corso sperimentale Che nel pomeriggio ci faceva fare Anche delle materie più Diciamo Tecnologiche Legate anche alla grafica pubblicitaria E io pensavo di far quello Cioè Non c'erano i talent Cino Quando io avevo 18 anni Stavo per dire per fortuna Vabbè ma insomma Sarebbe Io vengo da Io vengo da Sono molto coach Quindi sai che Sì sì lo so Lo so Ma me lo sarebbe Adesso ci porterebbe lontano Però sono una coach Forse un po' atipica Perché Anche grazie al fatto Che ho deciso di capire Cosa vuol dire Entrare in un talent A modo mio Con delle regole Che non tutte le nazioni Che me le hanno proposto Hanno rispettato Perché Io per esempio ho detto Scelgo io i ragazzi Decido le canzoni Coi ragazzi Se un ragazzo non vuole cantare una canzone Non canta quella canzone Cioè io ce l'ho nel contratto E non tutti E le nazioni Me l'hanno permesso Quindi dopo non sono andata In quella nazione Però è interessante Perché vedere la nuova generazione Che arriva E Normalmente Nell'audizione È diversa Da quando arrivi Alla fase finale Se continua nel mio gruppo Per esempio C'è un cambiamento La maggior parte La maggior parte delle persone Che viene all'audizione Viene con una Convinzione Che noi stiamo cercando Quello che funziona Quindi Vengono con una canzone Che sanno che sta andando In quel momento Con un look Che funziona Diciamo A livello popolare Certo E poi Dentro fatti sentire C'è anche questo Perché fatti sentire Vuol dire che Ti vergogni A mostrarti per come sei O hai paura E quindi Per piacere agli altri Ti mascheri E quindi Non sei te Quindi fatti sentire Non aver paura Fammi vedere chi sei Guarda Un pochettino Viene anche da lì Perché ormai Ne ho fatti Sei Cinque o sei Ne ho fatti Vedere come sono Guarda Questo ti diceva Un po' La malattia Nostri tempi Lo vedo anche In tanti ragazzi Anche a noi Capita Vengono a chiederci Consigli Ti accorgi Che spesso Il consiglio È più Come avere risultato Che non Come coltivare Quello che ho da dire O da essere È la velocità Di tutta la musica Anche come Adesso l'ascoltiamo E la mangiamo Ma anche il fatto Che si fa Un po' troppo A numeri oggi Cioè Anche Quando ci arrivano I comunicati Le visualizzazioni Va bene Ma a volte È solo quello A me guarda Ultimamente mi è capitato Che un artista straniero Giovane Che sta facendo Dei numeri grandi Non mi era mai capitato Però mi ha detto Quanti follower hai Su Instagram Ma è una domanda Da fare Cioè Io ti ho appena conosciuto Mi chiedi Quanti follower ho Su Instagram Cioè Io lo ritengo Il mio collega Io di lui Non voglio sapere Magari vado a vedermelo Per i cavoli mie Ma è una domanda Che Cioè Non avevo mai pensato Potesse Accadere Quanto meno Non la prima Magari Dopo un po' Sì Comunque tra colleghi Magari ti può succedere Se sei in un'intervista In un posto Dove vogliono sapere Cose tecniche Ci sta È una cosa Che vedo Che non ci chiediamo Solo tra cantanti Ma se lo chiedono i ragazzi Assolutamente Bravo Quello volevo dire Scusa Perché poi È talmente Piacere parlare con te Che poi parleremo di tutto Ma qualche notizia Abbiamo anche Darla Eh va bene No parliamo anche un po' Un po' Quindi anche io Mi gaso Sì ma infatti Posiamo andare avanti Lo so E lo faremo Però No nel senso Che Un giorno Guarda Passo di qui Motorino Se non è niente da fare Un giorno che c'hai Un vuoto libero Chiamami Magari sono a Roma Veniamo qua a chiacchierare Altra cosa Di cui poi volevo domandere Il fatto che vivi a Roma L'ho trovato una cosa Bella Ma poi ne parliamo No dicevo il disco Il disco Allora Lo faremo anche noi Adesso lo ascoltiamo Lo stiamo ascoltando Però mi piaceva capire Se tu riuscivi In poco A definire Cosa c'è Cos'è che Può dare un'identità A questo nuovo progetto Che è Che è Principalmente Guarda Quando io l'ho ascoltato Per la prima volta Per intero È una cosa che forse Si lega Al discorso che dicevi prima Che riguarda I miei occhi E la consapevolezza Ma però Quest'anno per la prima volta Mi rendo conto Che il comune denominatore Sono io Non ci avevo mai Molto fatto caso Tanto sei in tutti i testi Del disco Tu no? Si tutti Forse mi sembrava No chiedo No in uno no Quasi però Si Però praticamente Cerco sempre di entrare Anche quando mi arrivano A casa Molti sono nati da me E poi Grazie specialmente A Dagliardi Aiutata a svilupparli Anche perché ci sono Delle frasi importanti In questo disco Che sinceramente Non avrei potuto scrivere io Tipo? Dimmene una Forse una delle più belle A non rischiare niente Non vai all'inferno E neanche sull'altare È una frase Super mia Non solo Nella quale io credo molto Ma che ho anche messo in pratica Perché alla fine Ho sempre rischiato Con molta paura Ma Quando ho sbagliato Sono andata all'inferno Più che altro Nel mio Nella mia vita privata Nel mio interiore E quando Comunque ho rischiato Ho anche visto l'altare Che ovviamente sono due metafore Ma Quando sono stata ferma Questo sembra un po' un inno Anche contro la mediocrità Cioè Meglio inferno al paradiso E non la via di mezzo Guarda Assolutamente Stare fermi È mediocre E non ci serve a niente Purtroppo Non abbiamo Due mila anni da vivere E quindi Quindi il fatti sentire È un po' quello È questo Cioè il senso Se vogliamo dare un senso Un po' Le canzoni sono ognuna diverse Ognuna c'è un suo Ma se volessimo trovare Un qualcosa Che era comune È un po' questo Bisogna alzarsi E rischiare Cioè Vi rendete conto Il messaggio di Laura Meglio l'inferno O il paradiso Non le via di mezzo Scusa Lo sottolineo Perché è bellissimo È bellissimo Cioè Io piuttosto Preferisco Veramente Rischiare di andare all'inferno Perché La mia noia più grande La mia paura più grande È di non fare niente Cioè Ho meno paura di morire Che di non fare niente Non so Quando sono inquieta È perché non sto facendo Non ho un argomento Da sviluppare Davvero Io vorrei Svegliarmi tutte le mattine Anche se un po' Mi dà fastidio Ma vivere con affanno Qual è quello di oggi? L'argomento di oggi? Sì Quello con cui Sei svegliata Che ti dà il senso È assurdo Perché sto presentando Il mio disco Però Il primo pensiero di oggi È che Vado a prendere mia figlia A scuola con mio babbo E non ci vado mai Quindi È questo il primo pensiero Bellissimo E poi Insomma Sono a Roma Una città Che Ho imparato piano Ad amare Perché è una città Lenta Ci sei arrivata per amore Anche la decisione Di viverci Solo per amore Sì Io sono contento Io sono un grande fan Di Roma Sì assolutamente Come Tutte le contestazioni che ci sono Le discussioni Si dice Il peggio e il meglio Ma secondo me Invece rimane Una città più bella In cui vivere Questo tuo atteggiamento È esattamente quello che dicevamo Cioè Roma in questo momento Deve rischiare Non può essere mediocre È uguale Anzi Vorrei sottolineare il fatto Proprio perché Visto che appunto Parliamo di Roma Con te che ci vi da un po' Che guarda caso È vero che c'è un sacco di problemi A livello Tecnico Amministrativo Però è anche vero Che in questo momento Forse la musica È più interessante Che c'è in Italia È tutta da Roma Hai ragione Tutta Facci caso Negli anni 80-90 Era molta di Bologna Esatto Anche prima 70 Adesso vai a vedere Quasi tutte le cose Escono che sono romani È vero Insomma avrà un significato Questo vuol dire Che la città Comunque è molto molto viva In questo momento Perché sta soffrendo Hai notato che comunque C'è un posto Che sta soffrendo Ecco sì Quest'associazione È capitata nella vita Perché si fa L'arte migliore Si dice Viene dalla sofferenza Quando si è felici C'è una battuta bellissima Che diceva Bruno Lau Si diceva Perché scrivi canzoni così tristi E lui perché Quando sono contento Trombo o esco Per cui Beh aveva ragioni Che è un modo Come dire È abbastanza vero Guarda che c'è Lo conosci nel 60 E ti nascondi Ti saluto Vieni dalla mia bacino Noi eravamo un trio Una volta A Parigi Ma lo rifaremo Lo rifaremo Diciamo che Questa associazione Dolore Alla fine sì Musica Guarda io ho fatto Quando ho partorito Non riuscivo Più Ad innamorarmi Delle canzoni Malinconiche Non ce la facevo E mi sembrava di essere Molto falsa Nel sceglierle Quindi ho fatto due dischi Che nella sua totalità Diciamo Generalizzando Sono un po' Più ottimisti Adesso che Sono passati cinque anni E io sono un po' Più anche rientrata in me Come individuo Come persona sola E in me Io sono sempre stata Malinconica E ho cercato quello Nell'album infatti Per me le canzoni più belle Vengono Da i ricordi Più malinconici Più sofferenti Poi Io sono anche Molto Romagna In fiore Soprattutto in fiore E quindi mi manca La parte anche divertente Dell'album Che però È sempre la più difficile Per me da trovare Nelle musiche E nei testi Perché I testi in italiano Allegri Belli Difficile Molto Sì Devo dire che è anche molto interessante Questa associazione Rovesciata Uno comunque ha di te Un'immagine che è appunto Vitalità solare Romagna in fiore Però poi L'attruzione che hai È più forte Per la malinconia Almeno in musca Ma ho due Sono due caratteristiche Molto presenti in me Nella mia quotidianità Passo anche durante la giornata Dall'essere Molto vivace A malinconica E più pacata Da quando sono piccola Che sono così Probabilmente viene proprio Dalla mia famiglia Perché una parte È che è mio babbo Più vitale Più sognatore Così Giocherellone E l'altra che è mia mamma Che è più seria È una maestra italiana Quindi sai Un attimo più posata Senti Proviamo a fare Uno sforzo di immaginazione Adesso sei Siamo a Circo Massimo Sei davanti al popolo No Ci saranno Verranno Da molte parti Non mai ci sarà Anche una buona parte Di pubblico romano Quindi siccome è proibito Dire ciao Roma Ormai Nel concetto Non si può più dire Sì Proibito Ciao città Insomma dai No Io lo dico sempre A volte non dico ciao Dico solo il nome Roma Ah sì Perché è tutto Dentro il nome della città La prima cosa Che avresti voglia di dire A parte ciao Roma Alla gente di Roma Che verrà a vederti Porca Al di là del fatto Che tu poi Non c'ho ancora No 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 Ma al di là del fatto Che tu poi Ne dirai altri Ma se dovessi farlo In questo momento La verità È che a volte Mi scrivo delle cose Nel prompter Perché io non so Le parole delle canzoni Perché le cambio Talmente spesso Che ho in mente Varie versioni Quindi mi scrivo Anche dei canovacci Di cose E non ho mai detto Niente di uguale Quello che ho scritto Quindi Non ho mai detto Non voglio sapere Quello che direi veramente Quello che diresti Se fosse adesso Se fosse adesso Siamo forti Non lo so perché Però mi è venuto in mente questo Siamo forti Perché lo so Che sento Io adesso ovviamente Ho tanti amici di Roma E uno che è di una Parte politica Uno di un'altra Tutti che mi danno Le loro informazioni Sulla città Perché poi vogliono Tutti che mi innamori Della città E quindi tutti mi raccontano Varie cose Di questa grande città Perché poi Alla fine La città è una Ma qui dentro Ci sono tanti mondi E tante Tante diverse realtà La cosa che comunque Alla fine sento Nonostante l'insoddisfazione L'insicurezza E tutto quanto Che tutti Non mollano E mi piace Mi piacciono E la identità degli italiani Così un pochino Non solo dei romani Hai ragione Alla fine Cerchiamo sempre Un modo Di tirarci fuori Dal Senti scusa Perché ti ho sentito Prima c'era una cosa Che mi interessava molto Poi ti lascio andare Perché appunto Devi No però Mi piaceva Ma ho sentito parlare di Cuba In un modo molto entusiasta Però ho anche scoperto Dicevi che Era difficile andarci Perché Sarese stata boicottata Dalle radio americane Così? Sì È ancora così È un po' meno Non tutte le I primi anni 90 Assolutamente impossibile Cioè io avevo La mia casa discografica Avevo un accordo Con le case discografica Con le radio Specialmente della Florida Sì Ovviamente Però Sì Ma anche Di radio di altre Nazioni Americane Nelle quali Erano gestite Da americani C'era boicottaggio Ma penso Non ti passano più Non ti passano più le radio Quindi Adesso ce ne sono meno Però ce ne sono ancora Specialmente le Pochissime Gino Che passano le ballad Sono gestite Da cubani Che magari ce l'hanno Ah certo E quindi Ancora È un po' così Dunque Ho sempre cercato Di vedere Come poter andarci Perché Io Adesso che ci sono i social Adesso sono in contatto Con le persone di Cuba Nonostante Chi è andato Mi ha spiegato Che Insomma La connessione lì Non è così facile A volte ci sono Ore senza connessione Così Però io parlo Con i ragazzi lì E tanti miei amici italiani Sono andati in vacanza lì Mi hanno detto Laura mi hai fatto due palle C'eri sempre te in radio Cioè Voglio staccarmi un attimo E vado Sì poi è un posto da È da conoscere Per la storia Assolutamente Per esempio Mio fidanzato ci è andato È uno dei posti più emozionanti E mi ha detto Guarda Dobbiamo andarci una volta Adesso Sto facendo duetto Con questi due megatobici Gente di zona Si chiamano E sono veramente Tra i più amati Della musica attuale Cubana Tra l'altro Dei pochi Quelli che Dei pochi che non Non usano Nelle loro canzoni Delle parole Violente O comunque Maleducate Nei confronti del mondo Femminile Perché purtroppo Nel mondo urbano Non spesso Ma Un po' di maschilismo Un po' di maschilismo Loro no E questo invito Che tra l'altro È un invito strano Perché Quando si chiede Di fare un duetto Prima si chiede Vuoi cantare con me In questa situazione È stata Molto strana Abbiamo un produttore In comune Che si chiama Sergio Giorgio Che normalmente fa salsa Con cui avevo lavorato Con Mark Anthony Avevo fatto una canzone Con lui Versione salsa E questo produttore Ha mandato La mia balla Del primo singolo Non è detto A loro Loro me l'hanno rimandata Nella versione Che poi è uscita In questi giorni E che Praticamente Loro non cantano Le mie parole O le mie note Ci hanno aggiunto qualcosa E tu l'hai accettata così Perché ti è piaciuta Com'era Io l'ho accettata così Perché ho trovato Che questo è Il vero argomento Di questa canzone Cioè Che loro hanno lasciato Me come io sono E loro hanno Parlato Dello stesso argomento Dicendo Nadia Diccio Cioè il titolo della canzone Però Io nella canzone Sono la protagonista Che parlo A un dialogo Con il mio uomo E ci sediamo E ci diciamo Sono tanti anni Che stiamo insieme Siamo amici Non siamo Più complici Se aspetto Che mi parli te Passano degli altri anni Qui devo prendere Una decisione Cioè Non è lasciarsi Perché si è fatto le corne È la consapevolezza Di una coppia Matura Che ha capito Che ha chiuso Il suo ciclo Loro hanno deciso Di fare La risposta Quindi loro fanno Gli uomini Che parlano a me Sì Io l'ho trovato Molto interessante Perché io non ho mai fatto Un duetto Che loro Portano il loro mondo Dentro me Senza toccare Ma questo prelude Quindi è un invito A Cuba Io gliel'ho detto Ma perché se non ti invitano Cambia Cioè No Però Però voglio dire Nel momento in cui Io sono invitata lì Da due cubani Cioè Voglio anche vedere Se ci vado Se non mi passano Ah certo Perché Poi sai Magari ci vado Faccio il mio concerto Devo litigare con tutti Sai che I castron Anche Raul Ha ceduto Che adesso ci sarà Per la prima volta Un presidente a Cuba Non della rivoluzione Cioè Nato dopo la rivoluzione Quindi è probabile Che molte cose Speriamo Non in peggio Ma in realtà Già molte cose Sono cambiate Perché intanto Ci si può andare Certo Cioè C'è un volo Cioè E una volta Non era Ma io credo Che cambiano le cose Molto rapidamente Quindi E poi E' anche un attimo Giusto Ma certo Ma ogni volta Che mi ci avvicino Perché ci passo spesso Ovviamente Anche dall'alto Ma guardate Io vado da là Per tutto Poi è l'isola della musica Si Poi come la giamaica Io ho anche un musicista Che lavora con me E fai tour con me Da tre anni Che è cubano E mi racconta delle cose E dico Porca misera Ma stai zitto Non mi lo dico Ho proprio voglia Di andare nel bar Anche Paolo Il mio fidanzato Quando è andato a Cuba Mi ha detto Che lui alla fine È stato tutta la settimana Nei bar Ogni volta In uno diverso A suonare Mi ha detto Guarda È una roba pazzesca Io non ho a suonare Ma io ho ad ascoltare È bellissimo La cosa bella Che succede lì È che tu arrivi Non so Se sei sulla spiaggia Arrivano come succede Dovunque Quelli che vengono Tu dici Oddio che pale Stai lì al mare Dopo cinque minuti Sei lì Che dici Fammi un'altra Anche L'ultimo Che suona Sulla spiaggia È fenomenale Perché hanno Una cultura musicale Incredibile Dovunque Hanno anche Un'altra mentalità In generale Per esempio Il rapporto Con la musica È il corpo Che noi non abbiamo E la libertà Che ha La loro musica Ce l'ha anche Il loro corpo E non sto parlando Solo di Quello che magari Noi italiani Ci immaginiamo Delle donne Che si vendono Piuttosto Cioè Sono Sono più liberi Di essere Anche liberi Di essere poveri Non so come Stigare Ovviamente Soffrono Del fatto Però nella loro sofferenza Trovano Questa vitalità Di cui parli E io amo Questo dei latini Perché in generale I latini Sono così Loro Hanno qualcosa Specialmente Quelli che non sono ricchi Che sono molto più belli Cioè Poi Vabbè Io ho tutta una mia Cosa personale Cioè L'unica volta Che sono uscito Con uno ricco Mi sono fatta Duballe Cioè Una noia Veramente allucinante Mi dispiace tantissimo Però a me Io mi sono innamorata Di persone Che mi hanno portato Nell'autobus Quindi vuol dire che Paolo Era poverissimo Beh Non era poverissimo Ma fa il musicista Quindi sai cosa vuol dire Cioè Tanti pensano Che chi va in televisione Sono tutti ricchissimi Però è una persona Che ovviamente È stato molto fortunato E si è meritato Comunque ha fatto Tutte le tourne di Celentano Di Morandi Cioè Non aveva certo bisogno Di me Però Non è una persona Che Cioè Se lui veniva a prendermi Col Ferrari Io non ci andavo Lui mi ha portato Nella metropolitana A Barcellona E ci siamo Andati a vedere La Sagrada Famiglia Cioè Eh che cavolo Porca vacca È lui È lui Per sedurla Portata La metropolitana Ma poi non c'è bisogno Perché lei è felicemente Finanzata No 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 Però anche Anche gli amici che ho Mi piacciono più Semplici Cioè Alla fine I miei Veramente I miei migliori amici Sono Vabbè Le mie quattro migliori amiche Dei compagni di scuola Con le quali ancora Ancora adesso Sì Facciamo Zumba insieme Anche via Skype Il lunedì sera Alle otto Se non lavoro Ovunque sono Alle otto italiane Mi collego E via Skype Facciamo Una sessione di Zumba Perché dobbiamo Mantenerci in forma Abbiamo una certa Adesso noi E loro comunque Sono le mie amiche Una fa la panettiera Un'altra Cioè Lavorano Fanno tutti i lavori normali Diciamo E Un'altra Delle mie migliori amiche Qui a Roma Si chiama Daniela Fa un lavoro assolutamente normale È una mamma anche Cioè Non Non ho amici Che mi portano Nell'aereo privato E non vuol dire niente Perché magari c'è gente bravissima Però io nella mia vita Non mi sono mai sentita A mio agio Con quella categoria lì Nonostante Io magari possa Io stessa da sola Permettermi Non posso fare finta di niente Però Alla fine Sono le situazioni più Medie Che mi piacciono La gente Normale Normale Sì È dove mi riposo Abbiamo cominciato l'intervista Dicendo tutt'altro Però io voglio ricordarlo Tutt'altro nel senso che Quello bisogna cercare nella vita È o l'inferno O il paradiso Sì sì Ma a volte A volte Il paradiso Non è dentro una Ferrari Ah assolutamente Anzi Lo diceva anche il Vangelo Guarda la saggezza Il Vangelo Sì è esattamente questo Alla fine È più facile Per la parabola Passano gli anni Credo che Questa cosa un po' Non la dobbiamo Neanche ribadire Credo che La capisci da solo Anche se non hai Successo Vedi È nella quotidianità Nelle cose più banali Nelle cose più semplici Che ci si gioca la vita Veramente Io dove sono più felice È in un gesto Più normale Più che un anello Io vorrei una lettera Che bello Chiusura più bella Non ci sarebbe Quindi con questo ti saluto Ma ricordiamo gli appuntamenti Allora c'è un disco Che si intitola Fatti sentire Lo dice già il titolo Cioè come resistere A un dito così Perentorio Così forte Quando la musica chiede Di essere ascoltata Bisogna ascoltarla Appunto E poi c'è un tour Importantissimo Nel quale C'è una data Romana Circo Massimo Che sono due 21 e 22 Accidenti ragazzi Perché ho chiesto Di non farlo in piedi Certo Specialmente per questa cosa Che ti dicevo Quindi sarà limitata Cioè non sarà Mi hanno fatto vedere Un disegno di Cioè quanti posti Saranno Credo 35 mila Non volevo Io sinceramente Non andrei al mio concerto In fondo Io mi chiedo sempre Andrei al mio concerto Dove starei? Io sarei sempre seduta Perché devo stare Certo Quindi hai voluto I posti a sedere In questo caso Ho voluto i posti a sedere Soprattutto perché io ormai Sono consapevole Di qual è il mio pubblico Specialmente in Italia Io ho tantissima gente Con figli Voglio metterti la giusta ansia Perché è bene Che tu da artista Ce l'abbia In quel luogo Negli ultimi anni Sono avvenute Le cose musicalmente Incredibili E quindi tu devi Essere all'altezza Cara Laura Per essere all'altezza Devo fare me stessa Non devo pretendere Di essere loro No No Certo Invece una volta Pensavo così Questa è la differenza Di me dieci anni fa O anche cinque E me oggi Perché purtroppo Io non sarò mai Pink Floyd O per fortuna mia Perché alla fine Forse mi è andata In questo modo Perché sono esattamente così Voglio che ci sia Una qualità L'importante È che ci sia Un modo di suonare Fatto bene E che sia tutto Molto vero Molto sincero Non troppo studiato Tutto quello Che è stato studiato Nella mia carriera Non ha funzionato Perché Si vede Quando fatico una bugia Che bello Guarda Talmente Bello e preciso Che ti perdoneremo Anche quando direi Ciao Roma Diro solo Roma Perché basta dire Roma Ti dico solo Che ieri sera Sono andata a letto Ed ero a Milano Perché dovevo appunto Prendere il volo Per venire qua E l'ultima cosa Che ho sentito È mia figlia Che mi ha detto Forza Roma mamma Perché ieri avete giocato Sì Complimenti Io sono nel Milan Grande partita Sì Oh scusa Ecco Proprio vedi Sulla fine Di intervista Il nostro direttore Mario Calabresi Ciao Che è venuto a salutarti Come stai? Bene tu? Grazie per avermi ospitato Qua con lui Il tempismo perfetto Era il saluto finale Quindi guarda Come chiudere meglio Grazie